Ricordate di importare perché come la parola bisogna mettere nel cuore. E guardi abbiamo più di mille ragazzi che da tutta Italia sono venuti, abbiamo più di 1400 lezzuali fatti da tutte le scuole d'Italia che ricordano quello che è la pedagogia della legalità. Il modo principale per sconfiggere la mafia è portare qui i ragazzi e farli studiare, fai avere loro le parole di libertà contro la mafia e quindi è importante perché non si vince una battaglia molto per tutti, bisogna vincere tutti i giorni.